ciao a tutti e benvenuti sul mio canale youtube adesso andiamo a fare questo pane con questa farina di grano di maggiorca una farina macinata a pietra siciliana buonissima vediamo vediamo come seguire la ricetta seguitemi ho messo le farine dentro questa ciotola allora la farina di grano di maggiorca il grano di maggiorca si coltiva in culture in culture quasi sempre biologiche nel sud nel sud d'italia specialmente in sicilia è una farina molto molto nutriente contiene sali minerali vitamine e contiene poco glutine ecco perché io la spezzerò con la farina zero è una farina molto adatta anche per i dolci biscotti è usata per i dolci bene io adesso vado a mettere in autolisi le due farine quindi aggiungo l'acqua una parte una buona parte dell'acqua e bagno bene fino a inumidire tutta la farina dopodiché la lascio almeno 30 minuti ma se volete anche di più prima di continuare ad impastare passato passato il tempo riprendo l'impasto lo metto sulla bilancia e peso il lievito madre se volete potete anche continuare a mano nella ciotola ma io verserò tutto nell'impastatrice perché ho la spalla che mi fa un po male come sapete quindi giro tutto nell'impastatrice man mano comunque si lavora lo stesso basta impastare per benino un po di forza quindi vado metto ancora un po d'acqua di quella che è rimasta ne lascio un pochina la metto quando metto il sale e giro faccio amalgamare bene l'impasto con il lievito ok una volta amalgamato bene aggiungo aggiungo il sale e la restante acqua goccia a goccia faccio girare ancora un pochino ecco qua il sale e poi giro l'impasto sul piano di lavoro io procedo così lo sbatto un pochino così però se volete potete andare direttamente in ciotola con le pieghe scusate mi inumidisco un pochino le mani con l'acqua ecco qua sbatto per benino e lo metto poi nella ciotola oliata dove lo lascio un po' rilassare quindi lo lascio almeno 30 minuti lo copro e lo lascio eccoci qua allora adesso farò ancora delle pieghe direttamente in ciotola ecco le classiche pieghe che si fanno in ciotola ok lo piego così e ancora adesso lo coprirò e lo lascio sempre a temperatura ambiente questa volta lo lascio due ore quindi lo faccio lievitare per due ore dopodiché vedete lo prendo ancora così e lo piego in questo modo facciamo anche quest'altro passaggio bene adesso copro lo copro con la pellicola ermetico e lo lascio lievitare fino al raddoppio diciamo insomma deve aumentare di volume anche se non raddoppia non importa quindi lo lascerò ancora all'incirca 4 ore allora qui vi faccio vedere subito la formatura perché perché purtroppo non ho registrato il passaggio delle pieghe prima di fare la formatura ho fatto due giri di pieghe le classiche pieghe a tre vi metto il link in alto delle pieghe ma tanto sono sicura che voi le conoscete già purtroppo mi è successo questo guaio adesso di rovinare il video per questo non mi va quindi vi guardate il video sopra e poi andate subito a formare adesso vedete sto formando in questo modo perché il filoncino il filone non è tanto grande e quindi farò questo tipo di formatura in base al mio cestino ecco qua lo allungo un pochino intanto il cestino l'ho già preparato la semola con tanta semola sotto io metto sempre il telo nel cestino perché è molto più semplice non si attacca se non rischiate è molto morbido vedete l'impasto forse ho messo ho esagerato con l'idratazione regolatevi sempre con l'idratazione perché in base alle farine che usate anche se cambiate se cambiate marca magari hanno più o meno proteine e quindi vi cambia anche la dose dell'acqua ok in lievitazione ancora ed eccolo dopo all'incirca quattro ore sono arrivata la sera un po tardi potrebbe anche stare un pochino di più però sono le 11 le 23 quindi debbo procedere ho fatto un taglio così veloce perché è molto morbido quindi l'ho messo dentro dopo 5 minuti sono andata a fare un altro taglio velocemente all'interno eccolo qua sembrava che si era un pochino adagiato però adesso si sta rialzando sì un pochino di poca poca acqua di meno ci stava ok però eccolo si sta alzando e colorando diventando biondo c'è un buon profumo in cucina ed eccolo cotto adesso lo lasciamo raffreddare un pochino naturalmente io lo taglierò domani mattina allora l'ho lasciato tutta la notte però quando era un po freddo ho coperto con un telo per non lasciarlo così all'aperto e poi ho tagliato vedete è venuto molto molto bene anche se questa farina un pochino avrei anche potuto metterne un po di più di farina di maggiorca magari con meno zero però è venuta è venuto bene c'è un buon profumo ed è molto buono bene adesso io lo taglio taglio qualche fetta così poi la posso anche surgelare il resto lo mangiamo lo mangiamo oggi a pranzo bene amici spero che il video vi sia piaciuto come al solito lasciate un like commentate ciao a tutti ci vediamo al prossimo video ciao